Cosa fa Invitalia per queste start-up? Con una serie di strumenti, non solo quelli di tipo finanziario. Invitalia seleziona le domande, ammette piuttosto che rigetta le domande e poi eroga finanziamenti agevolati oppure contributi a fondo perduto. Ma oltre questo, che oltretutto è qualificante per l'utilità e il servizio che ne deriva gli imprenditori, Invitalia offre servizi di accompagnamento alla definizione dell'idea progettuale e offre poi, una volta messa alle agevolazioni dell'impresa, servizi di tutoraggio che aiutano l'impresa a colmare gap di tipo di competenze diverse che sono comunque un contributo importante allo sviluppo e alla permanenza dell'impresa sul mercato. Dottore, nonostante questi aiuti però il tasso di mortalità di queste start-up è estremamente elevato. Da cosa è dovuto in Italia? Forse anche da limiti culturali? Il problema della mortalità delle start-up è un problema storico e molto ben conosciuto. Da sempre si sente dire che mediamente 8 imprese su 10 nuove imprese poi muoiono o spariscono al mercato nei due anni successivi. Questo sicuramente dipende da limiti culturali ma dipende anche probabilmente dalla diversa capacità di immaginare non soltanto la realizzazione del progetto ma anche la sostenibilità nel medio e lungo termine. Un contributo che Invitalia dà a questo tipo di fenomeno è la selezione delle domande perché delle domande ammesse alle agevolazioni da parte di Invitalia questo tasso di mortalità è assolutamente basso. Mediamente le imprese ammesse alle agevolazioni da Invitalia hanno un tasso di sopravvivenza sul mercato che è molto maggiore dell'80%. Una selezione a monte che garantisce comunque che le idee selezionate, le imprese selezionate poi siano quelle con l'idea più strutturata e consolidata? In qualche modo la selezione di Invitalia anticipa quella che poi sarà la naturale selezione del mercato rispetto alle imprese appena nate e quindi una buona istruttoria, una buona selezione delle domande fa in modo che quelle che poi effettivamente nascono e vanno sul mercato siano molto più strutturate e molto più provate rispetto a quelle che sono le contingenze del mercato che poi impongono la sensazione dell'impresa. Perfetto, salutiamo il dottor Dario De Vescale, Tbiz Napoli 2015.